Nessuna dichiarazione ufficiale ma i dubbi manifestati circa la riapertura della E45 da parte dei consulenti della procura di Arezzo sarebbero pesanti. Sono le agenzie di stampa a riportare questo nella tarda serata del 29 gennaio, giorno in cui alle redazioni è arrivata anche la nota di Anas che dice esattamente il contrario. Perizie e rilevamenti, calcoli che vanno in direzioni opposte in merito alla sicurezza del viadotto Puleto, sequestrato lo scorso 16 gennaio per rischio crollo. Secondo indiscrezioni, si legge ancora nelle agenzie, per effettuare i lavori necessari alla messa in sicurezza totale del viadotto potrebbero essere necessari almeno sei mesi. Nessuna novità ufficiale è comunque al momento trapelata sul confronto di dati tra la relazione dei tecnici Anas e quelli della procura. Il procuratore Roberto Rossi sta ancora valutando la possibilità di riaprire. Intanto arriva anche una nota ufficiale del gruppo Facebook Vergogna E45. Vorremmo dire, leggiamo, che a nome delle oltre 7.000 persone iscritte alla pagina vogliamo risposte urgenti dalla Regione Toscana riguardo alla richiesta dello stato di emergenza. Siamo rimasti al decreterà, mentre l'Emilia Romagna ha già decretato e stanziato fondi. Vogliamo sapere se gli amministratori, come speriamo, hanno notizie sul ripristino della viabilità alternativa. Se hanno un progetto pronto e si aspettano anche loro che la Regione Toscana decreti lo stato di emergenza. Alla luce di queste foto è palese lo stato di degrado e il pericolo che abbiamo scampato e che la sicurezza dei cittadini è messa al primo posto da parte della procura. Non bisogna perdere altro tempo per i lavori. Vanno fatti urgentemente a ridurre i mesi di disagio della comunità, sia che rimanga aperta che in caso contrario. La procura di Arezzo aveva dato il suo assenso fin dal primo giorno ad iniziare i lavori anche con il viadotto sequestrato.